Un bellissimo terzo oro per Simone Barlam, oro però quindi medaglia d'oro anche per Ariola Trimi nei 50, stile d'orso di nuoto. Argento quindi medaglia del secondo posto per la bellissima Giulia Tersi nei 400 metri. In gara vi ricordo che oggi 29 agosto 2021 torna a gareggiare la brava e simpatica Bebevio la bravissima atleta paralimpica. Dunque le medaglie d'oro continuano ad arricchirsi, o meglio le medaglie continuano ad arricchirsi per quanto riguarda l'Italia, si trova adesso a 22 medaglie in totale, si trova in nona posizione. Gli azzurri gli italiani continuano a far sognare, la quinta giornata di Tokyo 2020 era iniziata con un bronzo di Akenza nel triathlon, è arrivato poi la Argento quindi medaglia di Argento, secondo posto per Giulia Tersi nei 400 metri stile S7. Ho atteso in mezzo oggi per Bebevio in Petana, quindi alle squadre l'oro di Barlam, di Simone Barlam veramente mette in Biacheco un vero e proprio titolo straordinario di 50 metri di sede libero di nuoto, ovviamente. Senza ovviamente dimenticare la straordinaria, nonché magnifica medaglia d'oro per Ariola Trini, dei 50 metri stile d'orso. Vi ringrazio per l'ascolto e per la visione di questo video di oggi. Iscrivetevi, commentatevi, vi parlo in piedi standard abbastanza bene di Tokyo 2020, secondo la mia opinione. Ciao da Ariandro e al prossimo video.